Dimenticatevi la crisi dei giorni passati, le manifestazioni di protesta dei lavoratori del Piceno a cui ci siamo abituati. Malgrado la crisi che ha attanagliato la Regione, nella conferenza stampa di fine anno il Governatore, Gian Mario Spacca, ha parlato di occupazione stabile e di prodotto interno lordo pro capite che continua a crescere, nonostante la crisi economica. Dati che dimostrano la forte capacità di tenuta della comunità marchigiana e l'efficacia della manovra anticrisi messa in atto dalla Regione. La cosa importante è che siamo riusciti a resistere all'annus horribilis, nel senso che la nostra comunità pur soffrendo sta resistendo bene, grazie soprattutto al coraggio della propria gente, dei cittadini marchigiani, a queste complessità. Lo dimostra il numero degli occupati che vengono protetti dagli ammortizzatori sociali, sono rimasti tutti nel mercato del lavoro, e anche il numero delle imprese che conferma, ultimo dato del census del mese scorso, che conferma che le marche continuano a tenere il primato delle imprese attive tra il totale delle imprese del nostro paese. Quindi la nostra comunità sta soffrendo ma sta resistendo alla crisi. Il prossimo anno non ci facciamo illusioni, sarà altrettanto difficile, molto complicato, molto complesso. E quindi abbiamo già predisposto con il bilancio di previsione 2010 le misure per proteggere sia i lavoratori, le famiglie dei lavoratori e le imprese. Quindi continueremo su questa strategia di resistenza. Il presidente ha quindi ricordato gli obiettivi raggiunti in questo quinquennio. La pressione fiscale è stata ridotta del 47%, il prodotto interno lordo pro capite è passato da 23.918 euro del 2004 a 26.652 del 2008. Le cinque province marchigiane inoltre sono nei primi dieci posti nel rapporto sul benessere Stiglitz e il census ha certificato che le marche restano prime in Italia per numero di imprese attive ogni mille abitanti. Risultati lusinghieri che fanno comunque presagire un'aria di campagna elettorale. La sfida per la conquista di Palazzo Raffaello si è appena aperta.